Al nome del nostro Giorgine della Dairanzara voglio porgere il nostro ringraziamento a tutti i talib e fratelli della federazione di Sheikh Maudul Amin Barabakhe. Un onore incredibile avervi qui e aver ricevuto la vostra visita, alhamdulillah. Un nostro fratello ci ha fatto notare che dopo la siara della Dairanzara al Khalifa General, Serenzi di Maudul Amin Barabakhe, e abbiamo deciso la data e non sapendo la data della Dairanzara, il Magal è caduta nella notte di Ashura. Quindi questa è stata una grande benedizione per noi ed è un onore che siete voi qui venuti. Vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore veramente. Abbiamo oggi avuto anche un grandissimo onore, siamo estremamente felici di aver ricevuto una bellissima visita dei nostri fratelli. sono dei fratelli della tareca Ahmadiyya Idrisia di Sheikh Ahmad Idris. Sono dei discepoli anche del grandissimo Sheikh Abdul Wahid Pallavicini. Siamo veramente oggi, quando abbiamo ricevuto la loro visita, hanno riempito il nostro cuore di gioia, abbiamo condiviso dei bellissimi momenti di conoscenza, ci siamo conosciuti. Speriamo che questo sia solamente l'inizio per future collaborazioni tra fratelli e sorelle musulmani. Vorrei passare la parola al nostro fratello, Abdul Hakim, che è il vicepresidente del Coreis. Passo la parola a noi, grazie a tutti e a salammare con voi. Ecco, siamo contenti e onorati di questa vostra ospitalità, che naturalmente avremo modo di ricambiare, inshallah, più da noi. A nome della comunità religiosa islamica italiana, che è rappresentata da Shouyuk, da Luakir Pallavicini e Iake Pallavicini, che sono anche i nostri Shouyuk, come Ahmadiyya, Shagliya Idrisia. Noi naturalmente portiamo i nostri saluti a loro nome, condividiamo con voi questa sensibilità spirituale nella via, nella tarica, e naturalmente questo ci accomuna ancora di più e ci rende fratelli veramente nella fede interiore. Ma naturalmente noi siamo qua per rappresentare in Italia tutto l'Islam. E allora questo Islam, che in Italia vediamo attraversare molte difficoltà, va aiutato con l'unità. Voi avete parlato oggi molto del Tarifite, proprio dell'unità, perché solo attraverso l'unità noi possiamo superare le difficoltà. Noi possiamo unirsi, non conta l'Islam dell'Africa, degli Arabi, degli italiani, l'Islam è uno solo, ma chi conta qual è l'approccio all'Islam? L'approccio del cuore, questa è la cosa che si deve unire, questa è l'unica vera risposta. La fede, un cuore sincero, una pratica precisa, questo è quello che noi possiamo così testimoniare verso l'Europa, verso l'Italia, cosa significa essere musulmani. E in questo modo possiamo veramente rappresentare qualcosa che è il nostro patrimonio. che gli altri non possono sempre nascondersi dietro il fatto che gli siano pochi disgraziati che con il terrorismo fanno un cattivo esempio, che non sono nemmeno dei musulmani. Non possono nascondersi dietro questo per non continuare a riconoscere l'Islam come religione in Italia. C'è bisogno che l'Islam venga finalmente riconosciuta con una intesa, con finalmente delle moschee, dei luoghi di culto, degli imam riconosciuti. Tutto questo è la luce del sole, perché questa ormai è una religione di un miliardo e mezzo di persone e che in Italia ha quasi due milioni di persone. Non può continuamente venire messa fuori dalla porta. È considerata una religione di serie B. Quindi il nostro sforzo che dobbiamo fare è quello tutti uniti di poter rappresentare un Islam vero, un Islam pacifico, molti dicono un Islam moderato, ma noi preferiamo dire un Islam di pace, un Islam di dialogo verso tutti, un Islam non violento che finalmente faccia capire con la pratica, come ho detto, con il cuore, quello che è veramente la via dell'Islam. E quindi ci sia finalmente un riconoscimento di questa fede che ormai sta diventando la seconda fede in Italia. Io vi ringrazio ancora a tutti dell'ospitalità. a nome mio, Siddhar al-Dalakim, Siddhar al-Jabbar, Siddhar al-Dalqadi e appunto dei nostri sui luci. Grazie ancora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. A'udhu billahi minash shaytani rajim, sillahi rahmani rahim, alhamdulillahi abbilalamin, wassalatu wassalamu ala sedi al-mursalim, sedi al-muhammadu ala alihi wasabi wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ala alhamdulillah. Cari fratelli e sorelle, vorrei prendere solamente due minuti. Mi è stato consigliato di fare una brevissima introduzione in inglese per i fratelli che ci seguono online, anche abbiamo dei fratelli che ci stanno seguendo all'Inghilterra solamente per spiegare qual è il tema della discussione di oggi e poi inshallah inizieremo con la parte in italiano. So we're going to do a little bit of interaction about the speech that I'm about to talk about. This speech will be about the life of Sheikh Hamadoubamba, about the teachings of Sheikh Hamadoubamba and what he went through for his life and what kind of lessons we can take to implement in these times. I will be talking about the character of Sheikh Hamadoubamba in his history and how he took the non-violence as a way of life and how the hidden mind is love for the prophet and not pushing to overcome any kind of difficulty and how he in all his life he implements and leave the love for God and all his creation. Insha'Allah, this will be the talk of today, insha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, cari fratelli e sorelle, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala che ci ha donato questo grandissimo dono, questa grandissima benedizione di stare nuovamente tutti insieme anche quest'anno per ringraziarlo, ricordarci di lui nella barakatih, a culpa di Alhamdulillah. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha detto che non possiamo ringraziare Allah se non ringraziamo anche gli esseri, i nostri fratelli e sorelle. quindi volevo iniziare ringraziando dal profondo del cuore il coloro che hanno iniziato questo progetto della Dairansar e quindi volevo esprimere il mio profondo ringraziamento e sincero ringraziamento a Jorin Bayeinbay, a Jorin Belufalo, Modu Juf, Khadim Jokane, Modu Njai, Nias, Babakar e anche i fratelli italiani che hanno un po' ci hanno aperto le porte del muridismo come Ndobo Zaliu o Babakar Pulselli che adesso si trovano in Senegal. Gli ringraziamo dal profondo del nostro cuore, alhamdulillah. Per quest'anno abbiamo pensato di affrontare, di discutere insieme della vita di Sheikh Madhub Bamba e che dare una breve presentazione della sua vita, della sua storia, della sua epopea e che insegnamenti possiamo trarre della vita di Sheikh Madhub Bamba. Sheikh Madhub Bamba Khadimur Assur intanto è il suo rapporto, il suo makham, la sua dimensione con Allah è conosciuta solamente appunto da Allah che lo ha creato dal profeta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Quindi per poter cercare di comprendere la sua realtà possiamo utilizzare le sue parole. Sheikh Madhub Bamba ha sempre detto di essere lo schiavo di Allah e il servitore del profeta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Il servitore diceva che era un alhamdulillah i wa khadimur assur, Sallallahu alaihi wasallam. Ed è da lì che cerchiamo, cercheremo di comprendere Serintullah. Quindi per capire Serintullah bisogna sempre avere come punto di riferimento Allah Sallallahu alaihi wasallam e il suo profeta, Sallallahu alaihi wasallam, e la religione di Allah Sallallahu alaihi wasallam. Allah Sallallahu alaihi wasallam nel Corano dice, nella sura numero 3 verso 19, Innaladina innala e l'islam, cioè la religione di Dio, la religione di Allah e l'islam. E l'islam, quindi per una volta che entriamo nell'islam abbiamo la necessità di comprendere quali sono le basi della nostra religione e comprendere che abbiamo questo onore che Allah Sallallahu alaihi wasallam ci ha concesso dalla sua infinita misericordia di percorrere il cammino di tutti i profeti e di tutti i santi di Allah Sallallahu alaihi wasallam. che ci permette di ritornare alla nostra essenza primaria che è chiamata nell'islam, fitra. L'islam è una religione quindi che non nasce con Sedina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ma è la religione che Allah ha deciso per la sua creazione prima di creare tutto. E Allah ha rivelato l'islam a Sedina Adam, alaihi wasallatu wasallam e a tutti i profeti fino a Sedina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. In totale Allah Sallallahu alaihi wasallam ha inviato a tutte le popolazioni e a tutti i tempi 124.000 profeti. E la religione di tutti questi profeti è sempre stata esclusivamente l'islam. L'islam, se lo analizziamo dal punto di vista del termine, possiamo vedere come l'islam sia basato su questa radice di tre parole, che sarebbe si, la min, la s, la m, la l e la m, tra cui si forma la parola islam. Ma da questa radice possiamo derivare altre parole che ci permettono di comprendere la reale dimensione dell'islam. E queste parole sono intanto salam, cioè la pace, l'altro salama, quello che significa appunto abbandonarsi, concedersi, vivere per Allah e salim, cioè colui che è salvo. Questo ci permette appunto di capire qual è la vera essenza dell'islam. E come dicevamo prima, l'islam dobbiamo sempre tenere in mente che è la via di tutti i profeti, di tutti i santi. E a testimonianza di ciò proponiamo solamente due aia del Corano che appunto ci evidenziano questo concetto. In cui Allah nella Sura Abba para verso 285 dice il messaggero ha creduto in ciò che gli è stato rivelato da parte del Signore. Come i credenti, tutti hanno creduto in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri e nei suoi profeti. Noi non facciamo differenza alcuna fra i profeti. E hanno detto, abbiamo ascoltato e abbiamo obbedito. Signore perdona, verso te il divenire. E nella Sura, la quarta Sura verso 163-164, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ti abbiamo fatto rivelazione come l'abbiamo fatta a Noè e ai profeti dopo di lui. E abbiamo fatto rivelazione ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe, alle tribù, a Gesù, a Giobbe, a Giona, ad Aronne, a Salomone e abbiamo dato lo Zagur a Davide. E vi sono messaggeri di cui ti abbiamo raccontato precedentemente e messaggeri di cui non ti abbiamo raccontato e Dio ha parlato a Noè. Quindi da qui vediamo come l'Islam e la religione, il Deen, la metodologia, il percorso che tutti i profeti hanno solcato in questa vita. E tutti i profeti sono venuti per una sola ragione, quello di insegnare la ilaha illallah, cioè insegnare che Allah è l'unica realtà e hanno insegnato a noi la metodologia, il percorso da seguire per tornare puri ad Allah subhanahu wa ta'ala. Ma l'apice della rivelazione si è raggiunta con Sedina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam che rappresenta l'uomo perfetto, il migliore della creazione e il sigillo della profezia. Allah dice che se non fosse stato per Sedina Muhammad non avrebbe creato nulla. Sedina Muhammad conferma ciò in uno dei suoi hadith. Infatti Sedina Muhammad racconta la parabola dei profeti che mi hanno preceduto e me è come un palazzo che qualcuno ha magnificamente e perfettamente costruito, ma un singolo mattone manca in uno degli angoli, così che chiunque passi da quel palazzo, sebbene esprime di esserne affascinato, dica quel mattone mancante deve essere inserito. Sedina Muhammad aggiunse io sono come quel mattone, io sono il sigillo della profezia. E poi nuovamente dice, il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse che i profeti sono come figli dello stesso padre ma con madri diverse e la loro religione è una e questo hadith è narrato in Al-Bukhari. E quindi da questa introduzione possiamo capire che la parola Islam è una descrizione di un cammino, è il metodo che tutti i profeti hanno seguito. E i profeti cosa sono, cosa rappresentano? I profeti sono espressione e rappresentazione della luce di Allah subhanahu wa ta'ala e la prova della misericordia di Allah e come abbiamo detto l'apice e sintesi di tutte le migliori qualità è l'uomo perfetto appunto è Sedina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E per conoscere Sheikh Madhu Bamba quindi dobbiamo anche fare riferimento appunto ad Allah, alla sua via e al profeta. E il profeta Allah subhanahu wa ta'ala ci ha parlato del profeta nel Corano dicendo in la sura 21 verso 107 ti abbiamo inviato come misericordia per tutti i mondi, Sedina Muhammad è misericordia non solo per gli esseri umani, non solo per i musulmani ma per tutta l'intera umanità, per tutti gli universi. In un'altra aia del Corano Allah subhanahu wa ta'ala ci dice che ci descrive il carattere del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dicendo tu hai un carattere nobile. Questa è l'essenza di Sedina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Infatti Sedina Muhammad disse sono stato inviato per perfezionare caratteri nobili. Questa è la missione che è stata affidata a Sedina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma molti chiedono, ma Sedina Muhammad ha vissuto 1400 anni fa, come possiamo noi attualizzare, vivere e pensare che possiamo ancora seguire un uomo che ha vissuto in un'epoca diversa e lontana dalla nostra. Ma dobbiamo sempre tenere in mente da credenti che Sedina Muhammad è l'unico profeta che, sallallahu alayhi wa sallam, che è stato inviato all'intera umanità fino alla fine del tempo. È un profeta universale e comunque Allah subhanahu wa ta'ala sebbene le porte delle profezie si sia chiusa non ha mai abbandonato le sue creature, non ha mai abbandonato l'umanità. Allah infatti, da quando il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam è tornato all'a subhanahu wa ta'ala, non ha mai smesso di concedere ad alcuni dei suoi servi una magnifica e radiante santità, affidandogli la missione di risvegliare le coscienze dei loro contemporanei e di rivivificare gli insegnamenti del Corano e la tradizione del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dice che ad ogni inizio di secolo dell'era, diciamo, del calendario delle gira, del calendario musulmano, Allah subhanahu wa ta'ala invierà alla sua comunità dei mujadid, delle persone che rivivificano la sua religione, il suo dino. E questo è un'adizio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quindi dopo che il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam è tornato ad Allah subhanahu wa ta'ala, adesso sulla terra rimangono questi uomini che sono i guardiani del dino di Allah. E sono tra questi meravigliosi uomini di straordinaria fede, si staglia un personaggio unico e imparagonabile, che è appunto il fondatore del cammino della muridia, che è Sheikh Madhubamba Khadimur Assul. Ma adesso dobbiamo chiederci chi è Sheikh Madhubamba. Sheikh Madhubamba, quindi, tradurremo per voi alcuni passi di un libro che si chiama Jar Jariborontuba, per dare un'introduzione e far capire un poco chi era Sheikh Madhubamba. E poi da lì continueremo dando alcune informazioni sulla storia di Sheikh Madhubamba e sulle sue caratteristiche, insha'Allah. Quindi Sheikh Madhubamba intanto è il figlio di Mammo Rantassali e Mamjar Abu Sabali. Il Sheikh Madhubamba, quindi, è un discendente del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da parte del padre e dalla parte della madre. Egli nacque nell'anno 1270 delle gira, che corrisponde approssimativamente al 1852 o 1853. Sheikh Madhubamba fin da piccolo, diciamo, mostrò delle caratteristiche che lo differenziavano in maniera chiara da tutti i suoi contemporanei. Infatti memorizzò in maniera precoce il Corano e divenne per ben presto ciò che gli uomini dicevano era un oceano di conoscenza sacra. Era estremamente umile e amava il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam immensamente. Fin da piccolo scrisse tantissimi libri. Raccomandava sempre di realizzare delle buone azioni e proibiva le cattivazioni. Aiutava tutti gli esseri umani e mostrava una grande compassione per tutto e tutti. Educava le anime dei suoi discepoli e gli faceva conoscere direttamente Allah. Conosceva lui stesso perfettamente Allah subhanahu wa ta'ala. Lo temeva moltissimo. Lo adorava incessantemente. Si affidava a lui per ogni questione. Si allontanò in maniera chiara dalle illusioni del basso mondo. Diede pochissima importanza alla ricchezza terrena e amò incredibilmente il Corano. Si narra che poteva sopportare grandissimi dolori. Era estremamente coraggioso, molto onesto. Dormiva pochissimo. Infatti si narra che possiamo dire che non ebbe mai un letto. Infatti anche i letti che erano estremamente comodi non li utilizzava. Preferiva poggiare sui letti le copie del Corano e li profumava con le migliori essenze e diceva O libro di Dio, sei il mio amico, sei il mio confidente e sei il mio dottore. E poi dormiva per terra. Percorse tutti i cammini di Allah subhanahu wa ta'ala. Praticò i wird o le litanie di differenti tarefa. Tareka kadriya, shadiliya, tijaniya. Ma quando iniziò a recitare tali wird, Allah subhanahu wa ta'ala gli aprì porte che erano sconosciute. Superò i limiti che erano raggiunti da altri santi. Finché a un certo punto decise di prendere come unico wird, come unica litania il Santo Corano. E dopo come unico wassila, come unico intermediatore con Allah subhanahu wa ta'ala, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E gli stesso disse, Allah mi ha guidato verso Sadina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e Sadina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mi ha condotto ad Allah subhanahu wa ta'ala. Adesso abbiamo fatto questa breve introduzione e adesso iniziamo a cercare di approfondire la conoscenza di Sheikh Muhammad al-Bamba partendo da un'opera maestra di uno dei suoi figli. Dal nome di Sheikh Muhammad al-Bashir, figlio di Sheikh Muhammad al-Bamba Khadim al-Rasul. Egli è Sheikh Muhammad al-Bashir, radio Allah utana, era uno dei figli che ebbe l'onore di vivere tantissimo tempo con il padre. Si narra che visse con lui circa vent'anni. E proprio da lui, alhamdulillah, abbiamo l'onore di aver ricevuto un'opera maestra che è la biografia di riferimento per tutti i muridi sulla vita di Sheikh Muhammad al-Bamba. E Sheikh Muhammad al-Bashir ci informa che la madre, Manjara Bussu, decise di educare i figli in un determinato modo, cioè raccontandogli la vita dei santi. Questa era la metodologia che Manjara Bussu utilizzava con i suoi figli. E ma lo Sheikh Muhammad al-Bamba, quando la madre raccontava tali eventi, prestava estremamente attenzione a tutto ciò che si riferiva ai santi del passato. E nel Sheikh Muhammad al-Bamba dei racconti la madre capì che c'era una caratteristica, un qualcosa che tutti i santi realizzavano. Ed erano le preghiere notturne, chiama Tulei. E quindi si narra che Sheikh Muhammad al-Bamba, quando era ancora piccolissimo, non dormisse la notte e si recava nel posto che era adibito all'adorazione per stare lì tutta la notte dalla sua infanzia. Quindi pregava il tahajjud in fin da quando era piccolo, neanche era entrato nell'era della maturità. Il padre capì, quindi, che il figlio aveva dei doni particolari. E appunto, come abbiamo detto prima, lo iniziò nel cammino della cadria, in quanto il padre apparteneva a quella tarefa. E Sheikh Muhammad al-Bamba iniziò questa via e dedicò tutto il suo tempo ad Allah, attraverso due pratiche. Quello della ricerca della conoscenza, dello studio e degli atti di adorazione. Infatti Sheikh Muhammad al-Bamba fu qualcuno che abbinò costantemente Hilm al-Amal, cioè la conoscenza alla pratica. Non era una persona che si occupava solamente della conoscenza, solo della pratica, ma cercava la conoscenza e metteva in pratica tutto ciò che acquisiva. Come abbiamo detto prima, iniziò molte vie sufi, le completò tutte, finché Sheikh Muhammad al-Bamba disse, è chiaro, per coloro che non hanno ancora dei devi, che Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è il mio unico wassila. E poi arrivò a dire Sheikh Muhammad al-Bamba in un'altra epoca che senza alcun dubbio sono un segno tra i segni di Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Muhammad al-Bamba stesso è un miracolo di Allah subhanahu wa ta'ala e uno dei suoi talibi disse che Serin Tuba il-Mu'ajiza è un miracolo di Selina Muhammad. Possiamo considerare Sheikh Muhammad al-Bamba un tra i miracoli di Selina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Come abbiamo detto prima, quindi inviò e praticò tutte le vie sufi, ma a un certo punto prese il Corano come solo unico virg e il profeta come unico wassila sallallahu alaihi wa sallam. In questo momento che fonda la sua via, la via del muridismo. Ma ci sono alcune date da tenere presente che rappresentano dei momenti fondamentali della storia del muridismo. Il primo è nel 1886 in cui Sheikh Muhammad al-Bamba fonda su un primo villaggio chiamato Darussalam. Darussalam è la casa della pace. Questo già indica la dimensione di Sheikh Muhammad al-Bamba. Creò un villaggio e diede come unico nome Darussalam, la casa della pace. Salam è uno dei nomi di Allah subhanahu wa ta'ala. E poi nel 1888 creò l'altro villaggio che sarebbe diventato quello che adesso tutto il mondo conosce, che è la città santa di Tuba. Lo Sheikh ama profondamente questi due villaggi. Infatti disse, amo questi villaggi più degli altri. Non li ho fondati per seguire le orme dei miei predecessori e né per cercare un luogo favorevole all'agricoltura e alla pastura. Li ho fondati esclusivamente per adorare Dio, l'unico, con il suo permesso e la sua approvazione. Da questo momento migliaia di persone ha corso la Sheikh Muhammad al-Bamba e per diventare murid e prendere il punto Serin Tuba come il proprio Sheikh. È in questo momento che molti senegalesi abbandonano e non riconoscono più l'autorità francese. E questo creò nella società senegalese uno scontro, nel senso che molti diventano gelosi dell'Ocea, sia i capi religiosi che i capi villaggi ed anche l'autorità francese. Quindi adesso si misero in atto una strategia per cercare di mettere il bastone tra le ruote nel cammino dello Sheikh e iniziarono a diffondere delle menzogne sullo Sheikh. Molti si impegnarono attivamente affinché i francesi potessero schierarsi contro Sheikh Muhammad e affinché adesso il potere dello Sheikh potesse diminuire. Quindi la strategia che adottarono è quella di accusarlo. Accusarono di tramare e di voler organizzare una guerra contro i francesi. Quindi dissero ai francesi che Sheikh Muhammad in realtà si stava organizzando per organizzare un Sheikh. E lo Sheikh tranquillamente a queste accuse rispose «Se mi accusate di voler organizzare una guerra santa, vi dichiaro che avete ragione. Lo faccio per compiacere Dio, ma le mie uniche armi sono la conoscenza, elm, o e è il timore referenziale, t'acqua, e il mio signore ne è testimone». Quindi Sheikh Muhammad dice che la sua unica jihad si realizzerà attraverso la conoscenza e attraverso il t'acqua, la consapevolezza dell'onipresenza divina. I francesi comunque decidono di proseguire in questa strategia contro Sheikh Muhammad Umbamba. Ma Sheikh Muhammad Umbamba non tentennò. Durante un suo ritiro spirituale nella zona che adesso è chiamata Daru Qudus riceve la visita del profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam e dei sahaba che avevano combattuto la battaglia di Badr. Il profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam adesso lo informa e gli dice che Sheikh Muhammad Umbamba è diventato il Qudb. Il Qudb è il polo spirituale della sua epoca. Ma Sheikh Muhammad Umbamba in quell'epoca ancora non aveva 40 anni. Nel sistema di Allah Subh'ana wa ta'ala un Qudb può raggiungere tale maqqa a 40 anni. Ma il profeta disse «Anche se non hai quell'età, grazie alle mie preghiere potrai raggiungere questo livello». Ma adesso Sheikh Muhammad Umbamba risponde in una maniera incredibile al profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam dicendo che in realtà la sua volontà, la sua himma, la sua aspirazione, la sua ambizione non era di diventare il Qudb ma la sua ambizione era di vivere eternamente con il profeta Muhammad come i sahaba di Badr e il profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam risponde che i sahaba raggiunsero tale livello grazie appunto alla battaglia di Badr e che se Sheikh Muhammad Umbamba avesse voluto realmente raggiungere tale livello doveva superare delle prove durissime e sicuramente tali prove non potevano avvenire a Tuba perché Tuba è una città protetta da Allah Subh'ana wa ta'ala. E' da lì che inizia l'epopea di Sheikh Muhammad Umbamba. Nel 1985 i francesi decidono di esiliare Sheikh Muhammad Umbamba nella foresta del Gabon per porre fine alla vita dello Shea. I francesi già avevano messo in atto questa pratica e chiunque andava in Gabon moriva in Gabon e quindi i francesi dissero ok, applichiamo lo stesso, lo accusiamo in maniera ingiusta e ci diciamo sbarazziamo di questo Sheikh. Ma Sheikh Muhammad Umbamba a queste accuse e a questa decisione reagisce da vero credente. Il Sheikh Muhammad Umbamba è felice del decreto di Allah Subh'ana wa ta'ala ed era perfettamente consapevole che ciò che agli occhi dei francesi era un esilio invece nella realtà di Allah Subh'ana wa ta'ala ciò era solamente il prezzo diciamo da pagare per raggiungere il livello di Khadimur Rasul e il salvatore dell'intera umanità. Quindi lo Sheikh accetta tale decisione e addirittura ne è felice perché può finalmente allontanarsi dagli esseri umani e dedicarsi ad Allah e al suo profeta e a testimonianza di ciò il Sheikh Muhammad Umbamba scrive qualche passo che ci fanno capire appunto questa differenza questa maniera opposta di analizzare tale realtà. Sheikh Muhammad Umbamba in una Cassida che tutti conosciamo che è Assiru Malabrari dice camminavo in compagnia dei virtuosi durante il mio viaggio ma i miei nemici pensavano che io fossi il loro prigioniero quindi i francesi pensavano che Sheikh Muhammad Umbamba fosse il loro prigioniero invece Sheikh Muhammad Umbamba dice io sono in viaggio con i virtuosi di tutti i tempi con il profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam e i Sahara Subhanallah tutti per il periodo dell'esilio in Nengabon fu marcato da immense difficoltà da Saint Louis in Senegal fino a Libreville in Nengabon passando per Dakar, Conagri, Dahomey e Sheikh Muhammad Umbamba passò però in periodi abbastanza lunghi in due luoghi Mahiumba e Lambaren ed è durante tutto questo viaggio ma specificamente in questi luoghi che Sheikh Muhammad Umbamba soffre di tantissime prove e i francesi tentano di ucciderlo si narra almeno 286 volte qualsiasi essere umano sarebbe morto non avrebbe potuto resistere a tali prove ma Sheikh Muhammad Umbamba dice le odi che ho dedicato al profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam mi hanno preservato dalla malattia e la morte nella foresta di Mayumba e lo Sheikh in quel luogo scrisse delle parole incredibili disse oh oceano di Mayumba testimonia in mio favore che io sono lo schiavo dell'uno che perdona i peccati e che sono il servitore dell'eletto al Mustafa Sallallahu alaihi wa sallam testimonia in mio favore come amico intimo dell'unico che concedo onore ai suoi amici io rifiuto tutte le forme di shirk di associazione ad Allah e adoro solo lui testimonia oh oceano di Mayumba che sono amico dell'unico che è degno di essere preso come modello l'amico di Allah sallallahu alaihi wa sallam e Sheikh Muhammad Umbamba miracosamente fa il ritorno in Senegal dove viene accolto da tutti i suoi talibi e tutti i discepoli che erano festanti e felici del ritorno dello Sheikh da queste prove e da questo esilio che è durato circa 8 anni nella foresta del Gabon quando lo Sheikh fece il ritorno in Senegal la strategia non cambiò le voci maligne non si fermarono nuovamente lo Sheikh fu ingiustamente accusato di voler organizzare una guerra contro i francesi e addirittura lo accusano di avere delle armi pronte nascoste ad essere utilizzate per realizzare questo jihad di cui lo accusano quindi le autorità coloniali decidono di esiliarlo nuovamente stavolta non più in Gabon ma stavolta decidono di esiliarlo in Mauritania la Mauritania perché prendono questa decisione? perché capirono che fisicamente lo Sheikh era protetto non si poteva in nessun modo sconfiggere lo Sheikh da quel punto di vista quindi pensarono mandiamolo in Mauritania perché? perché la Mauritania era considerata la lacrem diciamo l'apice della cultura islamica in ogni famiglia mauritana vi erano dei wali vi erano dei suyukh, dei ulamah quindi dissero se mandiamo Sheikh Madhubamba in quella realtà allora l'aura di Sheikh Madhubamba questa sua dimensione si afflevorirà si diminuirà quindi prendono questa strategia e deportano Sheikh Madhubamba nuovamente nel 1903 in Mauritania i discepoli vogliono ribellarsi a ciò non accettano questa decisione ma lo Sheikh tranquillamente come aveva accettato il primo esilio accetterà il secondo dicendo non ripongo le mie speranze nel supporto di nessun amico né temo l'aggressione di un nemico mi sono affidato completamente ad Allah subhanahu wa ta'ala e poi aggiunge nonostante la loro intensità o forma questi attacchi non vi causeranno alcun danno quindi lo Sheikh nuovamente è estremamente soddisfatto del decreto di Allah e continua a lavorare per Allah subhanahu wa ta'ala e il suo profeta salallahu alayhi wa sallam i francesi ritenevano appunto questo chi Sheikh Madhubamba diciamo che in questo modo potevano rallentare il lavoro dello Sheikh ma le popolazioni mauritane all'arrivo di Sheikh Madhubamba reagiscono con estasi erano estasiati che i francesi avessero mandato a loro il hud il polo spirituale di quell'epoca infatti Sheikh Sidibaba che Allah si è compiaciuto di lui scrisse Sheikh Hamad sei intuva è una benedizione di Dio maestro delle creature che ha concesso all'intera umanità gloria a Dio per le innumerevoli benedizioni che concede ai suoi serpi questo uomo Sheikh Madhubamba è un oceano è perfetto eccetto per un solo fatto che compie solo il bene questo è ciò che disse Sheikh Sidibaba e come reagirono i wali della mauritania che dedicarono anche delle opere a Sheikh Madhubamba Sheikh Madhubamba quindi accetta vive il suo secondo esilio in mauritania che è comunque diverso una dimensione diversa dal primo esilio in Gabon in quanto il primo esilio in Gabon era appunto caratterizzato da enorme prove che Sheikh Madhubamba doveva far fronte invece il secondo è solamente una ricompensa di Allah per l'eternità dopo questa permanenza in mauritania che dura circa 5 anni e dove i mauritani appunto adesso affermano che Sheikh Madhubamba è il vero schiavo di Allah ed è l'erede del profeta Muhammad sallallahu alaihi nel 1907 però terminato questo esilio i francesi gli accordano il ritorno in Senegal dove però vivrà agli arresti domiciliari la sua popolarità continuò a crescere a tal punto che i francesi dovessero addirittura limitare le visite allo Sheikh lo Sheikh a questo punto e a questo punto era seguito da tantissimi gruppi di persone e che a volte gli veniva negato questo accesso allo Sheikh ma nel 1912 lo Sheikh fu portato a Giurbel on Jerem per continuare a vivere agli arresti domiciliari e dove visse fino al momento in cui fece il ritorno ad Allah e grazie alla misericordia di Allah e anche al supporto del profeta Muhammad lo Sheikh visse 33 anni in prigionia senza mai abbandonare neanche per un secondo il suo impegno per Allah del profeta e per l'Islam e senza mai abbandonare la devozione verso Allah e il servizio per il profeta Muhammad e tutte le creature ma fino a questo punto abbiamo fatto riferimento alle opere dello Sheikh e alla vita diciamo dello Sheikh e adesso però vorremmo tradurre per voi un passo che è veramente incredibile perché è uno degli ultimi report che scrisse l'amministratore del circolo di Giurbel era un francese che doveva sorvegliare Sheikh Maudoubamba ed era estremamente arrogante con lo Sheikh e alla fine però dopo aver vissuto per anni con lo Sheikh anche se si comportava in maniera estremamente arrogante alla fine lascia un documento che ci fa capire ancora di più la vera essenza di Sheikh Maudoubamba questa persona si chiama Lasse Lee appunto dall'amministratore dell'amministratore del circolo di Giurbel e disse lo Sheikh Maudoubamba lo Sheikh Maudoubamba detiene senza alcun dubbio un potere innato una risorsa che non può essere colta dalla ragione quest'ultima non può neanche spiegare la sua capacità di attrarre le simpatie delle genti è straordinario come gli uomini si sottomettano a lui come lo amino un amore incondizionato sembra che sia dotato di una luce profetica e che detenga dei segreti divini simili a quelli che leggiamo nelle storie dei profeti quest'uomo si distingue per un cuore puro gentilezza generosità amore per il benessere dei suoi amici e dei suoi nemici senza alcuna distinzione una qualità che i suoi predecessori avrebbero invidiato nonostante quanto grande potessero essere le loro virtù devozione e prestigio i più ingiusti e ignoranti furono coloro che lo accusarono erroneamente di nutrire ambizioni per il potere terreno so che profeti e santi che condussero guerre sante lo fecero senza mostrare neanche metà della forza che risiede in questo Shea e queste sono le parole di un francese che lotto contro Shea Madhuvan Bacarim Adesso avendo raccontato un po' della storia e per aver capito cosa Shea Madhuvan Bamba dovete affrontare cerchiamo di estrapolare delle pillole di saggezza che provengono da un libro che si chiama Oceano della saggezza di Shea Madhuvan Bamba e la non violenza e lo facciamo appunto facendo riferimento ai suoi scritti Shea Madhuvan Bamba disse ho perdonato tutti i miei nemici per compiacere l'unico Allah subhanahu wa ta'ala che li ha allontanati da me infatti non cerco alcuna vendetta la non violenza di Shea Madhuvan Bamba però non è una strategia politica bisogna capire che ha un'ispirazione divina ed è radicata nel suo carattere nobile infatti Shea Madhuvan dice li ho perdonati per il viso di Allah con un cuore puro e per la soddisfazione del profeta l'eletto i cui passi ho seguito e il quale arrivo e il quale arrivo desideravo ardentemente Shea Momodul Bashir che Allah si è compiaciuto di lui nella biografia di cui facevamo menzione dice Dio Allah subhanahu wa ta'ala ha dotato ha donato ha donato al nostro Shea un'indole piena di affezione per tutti i credenti è pietà per tutte le creature era pieno di pazienza si affidò sempre completamente a Dio sopportando i pregiudizi dei suoi nemici e nutrendo simpatia verso loro sperando che potessero essere guidati alhamdulillah e questa quindi è la prima pillola che possiamo vogliere la seconda è appunto la caratteristica di Shea Madhuvan Shea Madhuvan era un uomo di azione una persona che era continuamente nell'adorazione di Allah o il servizio del profeta Muhammad infatti Shea Madhuvan dice è attraverso la khidma il servizio il lavoro che allontano il male e attraggio il bene il concetto di khidma nel Shea Madhuvan ha una triplice valenza il primo è quella che lega l'essere umano al suo signore attraverso un'adorazione sincera il secondo il concetto di khidma è ciò che lega l'essere umano alla società all'ambiente in cui vive cioè interagendo con tutti gli attori in essa il terzo è quello che lega l'essere umano a se stesso cioè al proprio dovere di migliorarsi costantemente infatti nell'Islam diciamo che non dobbiamo essere migliori degli altri ma migliori di ciò che eravamo ieri quindi c'è questo continuo percorso di miglioramento che possiamo ottenere attraverso appunto attraverso la khidma ed è per questo che Sheikh Maudoubamba non si limita esclusivamente a impartire delle lezioni spirituali egli ha anche definito e organizzato un ambiente favorevole allo sviluppo spirituale dei discepoli infatti l'uomo deve adorare Allah ma deve lavorare e deve migliorare il proprio carattere è per questo che creò molti villaggi e altri villaggi furono invece trasformati in città e una caratteristica era quella che la moschea era sempre il fulcro di quel luogo ciò rappresentava l'essenza di ciò è che tutto doveva essere basato sulla soddisfazione di Allah la soddisfazione di Allah doveva essere l'obiettivo primario di tutte le attività quindi la moschea al centro e poi tutte le attività venivano svolte attorno ad essa quindi le attività mondane le attività temporali dovevano essere solamente al servizio della dimensione spirituale ed ogni individuo doveva svolgere il proprio ruolo in base a quelle che erano le proprie attitudini l'educazione che lo sheikh dava ai talib ai discepoli variava infatti in base alle caratteristiche di ognuno di esso alcuni erano più inclini all'educazione intellettuale altri preferivano altri metodi come l'emulazione dello sheikh o esperienze dirette del divino attraverso lo ziker o altri attraverso il lavoro manuale cioè sheikh Madhubamba diede questo ampio ventaglio ad ognuno per potersi migliorare e diventare veramente ciò che Allah voleva da loro e per questo che sheikh Madhubamba creò luoghi fisici creò città creò villaggi ma creò anche dei centri di ricerca dei luoghi che appunto vengono chiamati dara cioè che erano dei luoghi in cui che erano finalizzati all'acquisizione della conoscenza ma anche all'ammiglioramento e alla formazione del proprio carattere sheikh Moul Bashir nella in questa nella Bibbia e la Biografia dice la prima richiesta dello sheikh ai propri discepoli era quella di lavorare rinunciare ai piaceri mondani o carnali recitare zikr e imparare la conoscenza teologica canonica e mistica cioè la conoscenza dell'Iman dell'Islam e dell'Ihsan e lo sheikh facendo riferimento a ciò possiamo capire che non ha mai tollerato la passività non ha mai tollerato la pigrizia e i vizi lo sheikh era sempre a conoscenza delle necessità di ogni suo discepolo e gli insegnamenti che lui ha dato sono presenti in tutti i suoi scritti sheikh Maudoubamba ha lasciato a noi infatti un'eredità immensa che si narra intorno a 7 tonnellate immensa 7 tonnellate e mezzo di scritti che testimoniano appunto che lo sheikh era un uomo di azione un uomo che era sempre attivo nell'adorazione di Allah e nel servizio di Allah del profeta e di tutte le creature e riguardo a ciò sheikh Maudoubamba disse le mie opere sono i miei miracoli infatti si narra che sheikh Serim Bassir disse che una volta lo sheikh scrisse in meno di un mese una quantità di opere che nemmeno un gruppo di 10 persone avrebbe potuto scrivere se avesse lavorato in maniera ininterrotta durante un mese questo è il livello che sheikh Maudoubamba aveva e la cosa più incredibile che scrisse in condizioni difficilissime e in una lingua che non è sua cioè l'arabo ma sheikh Maudoubamba disse Allah mi ha gratificato con la luce della lingua araba e un'altra caratteristica che avevo letto è che sheikh Maudoubamba è il servitore del profeta Muhammed salallahu alaihi wa sallam Hanimurassul non è un titolo o un nome che sheikh Maudoubamba si è attribuito ma è una una sublime realtà della sua dimensione che è con Allah e è un onore che ha ottenuto grazie alla raccomandazione del profeta e grazie all'eterno decreto di Allah subhanahu wa ta'ala lo sheikh disse a bordo della nave che mi conduceva in esilio Dio mi ha dato mi ha informato che sono il privilegiato servitore di colui che è a Medina cioè Sedina Muhammad salallahu alaihi wa sallam e in un altro passo dice indiscutibilmente sono il servitore del profeta Muhammad che è il signore di tutti i primi e gli ultimi ugualmente la relazione tra lo sheikh e Sedina Muhammad salallahu alaihi wa sallam era tale che Serim Musaka in uno dei suoi scritti disse lo sheikh si è dissolto nel profeta Muhammad come lo zucchero si dissolva nell'acqua infatti lo sheikh in un altro passo disse giuro su Dio che cedo la mia vita la mia morte e tutto ciò che posseggo a Sedina Muhammad salallahu alaihi wa sallam ciò significa che lo sheikh ha diretto tutta la propria vita condotto tutta la sua vita solamente per per Allah e per il suo messaggero quindi chiunque cerchi il sheikh modul bamba lontano da Allah e Sedina Muhammad non riuscirà a trovarlo male ha vissuto al servizio del profeta e ha rivitalizzato ciò che lui ci ha lasciato in eredità cioè il corano la sunna e la sua humma la comunità di Sedina Muhammad lo sheikh ha fatto tornare in auge e ha rivitalizzato la via e il cammino di Sedina Muhammad e dei suoi sahaba la sua missione fu ancora più lodevole perché riuscì a ottenere risultati in un periodo in cui è in un luogo dove l'islam era in pericolo ed era stato privato della sua essenza e quindi ciò ci fa capire che la missione di Shekhu Muhammad è ancora più importante da un livello che è difficile dare da comprendere e poi per concludere un altro aspetto che dobbiamo sempre tenere in mente è che Shekhu Muhammad ha lavorato per tutti Shekhu Muhammad ha una missione universale all'inizio abbiamo detto che Sedina Muhammad è un profeta universale tutti gli altri profeti erano stati inviati in determinati tempi in determinati popoli per esempio abbiamo tutti sappiamo i profeti di Ban Israel dei profeti che erano stati inviati esclusivamente a Ban Israel ma invece Sedina Muhammad è un profeta che è stato inviato a tutta l'umanità dal tempo in cui è emersa fino alla fine dei tempi quindi la dimensione di Shekhu Muhammad Umbamba è la stessa Shekhu Muhammad Umbamba ha una missione unificatrice infatti Shekhu Muhammad Umbamba considera i suoi discepoli tutti coloro che prendono Allah come il proprio Dio Sedina Muhammad come il proprio profeta il Corano come proprio libro e la Kaaba come propria direzione lo Shekhu durante la sua vita fece visita a molti digitari e famiglie musulmane aprì le porte a tutti e a tutti condivise i suoi possedimenti senza alcuna discriminazione infatti quando invocava Dio come servitore del profeta diceva o Allah proteggi la comunità del prescelto salve Allah alee wa sallam però quando invocava Allah invece come Abdullah come schiavo di Allah diceva abbi l'età di tutte le creature lo Shekhu infatti non perse mai diciamo la consapevolezza la visione che la sua missione era una missione universale come diciamo prima perché perché Sedina Muhammad è un profeta universale salve Allah alee wa sallam è la missione di Serintuban e per l'intera umanità per chiunque voglia intraprendere questo cammino infatti disse o genti della terra o genti del mare rispondete al richiamo di Dio il più giusto l'oceano della generosità lo Shekhu pregò in maniera incessante per tutti a prova di ciò traduciamo qualche verso di una famosa chassida dello Shekhu che si chiama Tabushifai che ci fa capire appunto tale dimensione Shekhu in questa questa classica in questo poema gli chiede ad Allah Allah che tu possa far scendere la cura in luogo delle malattie e non metterci alla prova con tribolazioni fa scendere Allah ciò che è benefico al posto di ciò che è dannoso fa scendere il bene al posto del male poi chiede ancora ad Allah che tu possa far scendere la conoscenza e non l'ignoranza che tu possa far scendere la generosità al posto della miseria la ricchezza al posto della povertà e poi in questo punto dice Allah fa scendere la gratitudine al posto dell'ingratitudine quindi Allah prega per tutta l'unità coloro che si rivolgono ad Allah ringraziandolo e adorandolo e coloro che non lo fanno Allah è appunto per tutti e per concludere per far capire un po' la possibilità il grande onore che abbiamo la grande possibilità come discepoli dello Sheik che abbiamo e vogliamo concludere con con un punto l'ultimo Beit che ci che in cui lo Sheik dice afferma che Allah mi ha supportato Allah mi ha dato il suo aiuto e dice le genti verranno a me dal mare e dalla terra li assisterò tutti senza arricarvi il minimo danno e chiediamo Allah di darci la possibilità di vivere di amare e di morire per la Sheik e ringrazio a tutti assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi grazie